Sì, speriamo che anche assessorato alla cultura di Pescara si accorga che i musei possono e devono riaprire perché bisogna piano, chiaramente, tornare alla vita piena, quindi anche quella culturale. Mentre i musei come l'Imago Museo, il Museo della Fondazione Pescara Abruzzo, aperto e frequentabile, a Pescara il Museo Colonna è ancora deserto, non c'è nulla da mesi e è abbandonato, così come il Museo Cascellare. Noi abbiamo rimesso in sesto un allestimento nuovo bellissimo e anche quello rimane chiuso. Il Museo Centi d'Abruzzo ha dei problemi gravissimi legati ai contributi e al personale che, in caso di integrazione, da tantissimo tempo, aprirà spot perché il Comune non vuole investire quelle energie necessarie a far vivere la scena culturale di questa città e i musei che noi abbiamo che animano e vengono amati dalla città. Il Museo Cascella, quando lo inauguravamo, riaprimmo meglio, ci fu una fila chilometrica, la città vuole tornare a partecipare, ma i musei sono spenti, come la cultura in questa città. Un appello all'assessorato e al Comune? Invito l'assessorato e al Comune a rendersi conto dei tesori che ha tramite le strutture museali e culturali di questa città e riaprirle perché questa è una città che vuole, conosce vivere la cultura, vuole tornare a questa bellezza che noi abbiamo, che va vissuta però. Grazie. 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 Grazie.